Un servizio Mensa con prodotti campani certificati. Questa è l'idea del sindaco di Santa Maria La Fossa, Antonio Papa, che ha voluto dotare la scuola dell'infanzia Maria Montessori di pasti composti per la maggior parte di prodotti nostrani altamente controllati. Noi abbiamo voluto dotare con questo servizio Mensa un segnale, quello di usare i prodotti del nostro territorio, i prodotti DOP, i prodotti IGT. In un momento particolare dell'economia della terra di lavoro, dovuta alla famosa denominazione che abbiamo acquisito in terra di economia, abbiamo voluto dare un segnale ben deciso. Noi mangiamo i nostri prodotti, che sono prodotti biologici, prodotti certificati. Qui ci sono bambini piccolissimi, anche inferiori ai tre anni. Mangiano questi prodotti che sono certificati? Sono certificati e mangiano insieme ai bambini anche gli insegnanti ed il personale della scuola. Di ortaggi, salumi, non c'è paura di mangiare i prodotti della nostra terra? Assolutamente, questo è stato un segnale ben preciso, che è quello di dire noi mangiamo i prodotti della nostra terra, perché sono certificati e perché sono dei prodotti sali. Siamo con Luigi Datterio, uno dei proprietari della ditta che offre il servizio mensa qui alla scuola dell'infanzia di Santa Maria La Fossa. Ecco Luigi, il sindaco si è complimentato con il vostro servizio per la qualità dei prodotti. Ci puoi garantire che sono tutti prodotti certificati e che non hanno nessuna difficoltà, non c'è difficoltà per farli mangiare ai bambini, sono tutti prodotti buoni? Assolutamente sì, siccome noi attuiamo un piano di autocontrolla attraverso il piano HCCP e siamo certificati ISO 2001-2008 tramite l'azienda DNV, quindi noi dobbiamo rispettare tutti i criteri che ci vengono imposti.